Mi avete sentito parlare per tutto il tempo della serie come un combattimento tra pesi massimi, ed è esattamente quello che è successo questa sera. Credito a Torino, che ha fatto tante giustamente tra gara 1 e gara 2, una squadra veramente tremendamente allenata, tremendamente nel senso inglese, specifico e positivo, una partita che sarebbe potuta andare in entrambi i modi, sono veramente contento che i nostri ragazzi siano riusciti a fare giocate importanti nei minuti finali. Sono contento, eccitato e emozionato di tornare a casa davanti ai nostri tifosi. Spero che queste due partite in trasferta le abbiano dato fiducia e ispirati a darci grandissima energia a venerdì. Per quanto riguarda la nostra squadra, penso che possiamo giocare molto meglio e avremo bisogno di giocare molto meglio venerdì. Sai, non possiamo giocare contro una squadra così talentuosa, contro un coaching staff così talentuoso e aspettarsi che le cose rimanghino uguali. Dobbiamo diventare migliori per essere pronti a livello. Abbiamo una squadra molto buona squadra. Abbiamo una squadra molto talentuosa di giocatori. E assolutamente sentiamo che Eli sia un giocatore così tanto talentuoso quanto gli altri abbiamo, non di meno. Ma la relazione e il rapporto che ha con i suoi compagni ha permesso al suo apprendimento, al suo miglioramento, veramente di accelerarsi, grazie a questa relazione. Dopo due settimane che si allenava con noi, mi ha detto, coach, io posso imparare così tanto da Ariel Filloy. Quindi Ariel è diventato come un mentore per lui immediatamente. Ma ha preso questi pezzi di esperienza da tanti giocatori nel nostro roster. E è stato molto speciale, molto emozionante per noi quest'anno vederlo migliorare, vederlo crescere. Per un giocatore che è un rookie in Europa a giocare così bene come ha fatto lui, è un merito suo, ma anche un merito di tutti i giocatori con cui ha giocato quest'anno. Grazie.